La società è che si possa giocare alla roulette russa con la propria vita o con quella degli altri mettendosi alla guida sotto l'effetto di alcol, di droghe o di entrambi. Siamo una società che spinge all'additività, all'adrenalina, al consumo, ma mi sembra che sia ora di recuperare un senso di responsabilità, un valore della responsabilità complessivo che a mio parere abbiamo perduto. Nell'interesse di ciascuno di noi e nell'interesse della collettività.